Buonasera ragazzi e benvenuti in questo video. Chi di voi mi conosce sa che io non sono molto avvezzo a parlare in pubblico e ancor meno a fare video di questo tipo. Ho deciso però di fare questo video perché molto spesso da persone che seguono il mio canale o anche da chi vede sporadicamente i miei video. Ricevo soprattutto tre domande alle quali oggi ho deciso di dare risposta attraverso questo video. Le tre domande principali che mi vengono spesso poste sono come faccio a registrare l'audio del cockpit, l'intercom, l'ETC eccetera, come faccio a registrare i dati della telemetria e a metterli in sovraimpressione sui miei video e con cosa registro i video. Bene, oggi volevo rispondere a queste tre domande. Ci tengo a precisare che questo non è un placement dei prodotti che vedremo e nessuna delle aziende che oggi citerò mi ha pagato, mi ha sponsorizzato per fare questo video. È semplicemente l'attrezzatura che io utilizzo oramai da più di due anni, da quando ho cominciato a fare il mio PPL fino ad oggi. Andiamo a vedere innanzitutto la parte video. Cominciamo da questa confezione dove io tengo tutta la mia attrezzatura video, che porto con me ovviamente in aereo. Non vi mostro tutto quello che c'è dentro perché in realtà c'è qualcosa di nuovo che non ho ancora fatto vedere nei video e che spero di far vedere nei prossimi. Come sapete, purtroppo ultimamente per via del Covid e per il fatto che la Lombardia è zona prima rossa, ora arancione, non è possibile volare, almeno voli di tipo ricreativo per i soci piloti, quindi non sto riuscendo a volare anche per quello che non sto più portando video. Ma diciamo che quello che c'è qua dentro magari ve lo spoiler o poi a fine del video. Cominciamo però con la prima parte che è come registro i miei video. I video vengono registrati con una action cam. In particolare io utilizzo una Garmin, una VIRB Ultra 30, che è questa piccola action cam. L'ho comprata circa 3-4 anni fa, prima anzi di cominciare il mio PPL, ma l'ho dedicata al mio primo video, è stato per il PPL. È una cam che a mio avviso rispetto a GoPro è leggermente inferiore forse come video, anche se bisogna considerare che appunto questa oramai ha 3-4 anni, quindi bisognerebbe confrontarla con una GoPro dell'epoca. Ma ha una cosa che è decisamente per me interessante, è che ha tutta una serie di sensori che sono proprio quelli che permettono di registrare tutti i dati telemetrici, quindi la telemetria che voi vedete poi sui miei video. Infatti questa action cam ha una serie di sensori, tra cui giroscopi, GPS, barometro, eccetera, che permettono di registrare questi dati durante la registrazione del video. Mettere poi in sovraimpressione in realtà è una cosa molto semplice. Utilizzo un programma sempre della Garmin, che tra l'altro è free, lo può scaricare chiunque, anche chi non ha una Garmin e lo può utilizzare chiunque, si chiama Garmin Virbedit e questo permette attraverso dei file contenenti la telemetria, file che ad esempio anche le vecchie GoPro credo producano, è possibile sincronizzare il video con questi dati e poi attraverso questo programma ci sono dei layout che è possibile mettere in sovraimpressione sul video per far vedere i dati. Il layout che vedete sui miei video in realtà è un layout un po' personalizzato, nel senso che non è presente nel programma, ma l'ho trovato su un sito internet, ora sinceramente non ricordo dove, dove abbiamo proprio i classici strumenti di aviazione, quindi che troviamo anche sull'aereo. Quindi questa cam ci permette di fare questo. Come vedete la cam non ha attacchi per poter essere agganciata a dei supporti. Io inizialmente utilizzavo questo supporto qui, è il supporto quello originale della cam che ha gli attacchi, quelli classici GoPro, con lo sportellino però quello non subacqueo, quindi quello che ha il buchino dietro. Questo perché? Perché questo permette la lettura della pressione attraverso il barometro, cosa che altrimenti in quello subacqueo, quello sportellino subacqueo non riuscirebbe a fare. Questa cam, come tutte le action cam, in realtà ha un piccolo difetto che è la batteria. Ovviamente per me la registrazione del video era qualcosa all'attere del PPL ed è anche all'attere del volo, nel senso che è bello avere le riprese ma il volo, la concentrazione e la sicurezza prima di tutto. Quindi io quello che facevo era accendere la cam appena mettevo piede sull'aereo e la spegnevo quando avevo spento l'aereo ed era finito tutto, quindi quando stavo scendendo dall'aereo. Questo vuol dire che per un semplice volo, una semplice lezione anche di 30 minuti di volo, se consideriamo il tempo in cui si sale sull'aereo, si fanno tutti i controlli, si accende l'aereo, a volte si aspetta il motore che si scaldi, i rullaggi, il decollo, magari il tempo per raggiungere l'area di lavoro, di tornare, l'atterraggio eccetera, a volte magari per 30 minuti di esercizio c'erano dietro un'ora, un'ora e dieci, un'ora e un quarto anche di filmati e la batteria purtroppo non reggeva. Questa cam fortunatamente permette di attaccarla a un power bank attraverso questo spinotto qui in modo da poter continuare ad alimentare la cam anche mentre si è in volo, ma purtroppo non si può con questo cage, perché questo cage è il cage in realtà subacqueo alla quale è stato messo solo il retro, non subacqueo, quindi è tutto completamente ai lati chiuso, impermeabilizzato e quindi non è possibile attaccarci a un power bank. Ho acquistato allora, sempre originale della Garmin, questo cage che mi permette di avere il supporto, gli attacchi per i supporti quelli classici GoPro, ma avere anche liberi gli spinotti. Io utilizzo per montare sull'aereo due tipi di supporto, uno è quello che vedete qua, Questa è una clip, una molletta, molto dura e molto resistente, l'ho acquistata su Amazon della Fantasil, la trovo molto buona perché ha una buona presa, è molto dura, è molto stabile, non vibra, molto importante perché su un aereo di vibrazioni ne abbiamo parecchie, la cane è stabilizzata, ma comunque sia meno vibrazioni abbiamo, meglio è, in più ci permette anche di regolarla fino a 180-360 gradi, insomma in tutte le angolazioni. Io normalmente la pendo alla plafoniera dell'aereo e poi l'angolo in modo da, diciamo, da prendere la strumentazione, una parte di me e all'epoca il mio istruttore. Questa è la clip che utilizzo quando voi vedete proprio il cockpit, quando vedete la ripresa del cockpit. Ne utilizzo un altro che però vedremo dopo, per fare invece le riprese esterne. A questa clip ho attaccato questo sacchettino dove non c'è dentro nient'altro che un power bank, un power bank sinceramente anche un po' adattato, non c'è bisogno di grandi potenze, perché comunque sia basta veramente che mantenga la cam accesa per poco, quindi power bank anche molto più piccoli di questi vanno bene. e ho utilizzato, utilizzo un cavo retrattile dal power bank alla cam, perché per avere, diciamo, il minor cavo possibile in giro e non avere cavi molto lunghi che potrebbero dar fastidio, anche in questo caso il fastidio deve essere sempre ridotto al minimo, però averlo retrattile mi permette comunque di avere, di poter gestire anche più situazioni nel caso ci fosse la necessità. Questa è la parte con cui io registro il video. Alcuni di voi mi chiedono come faccio a registrare l'audio dell'intercom attraverso l'action cam. Ecco, in realtà non utilizzo l'action cam per registrare l'audio per un semplice motivo. Voglio ottenere anche l'audio, quello originale registrato dall'action cam, quindi il rumore del motore, ma molto importante anche per esempio quando si faceva, si facevano lezioni, si faceva il PPL, avere ad esempio lo stall warning, piuttosto anche che sentire, piuttosto anche sentire le variazioni del motore, sentire un motore che pianta, anche se solo in modo simulato, eccetera. Quindi diciamo che io in genere, benché riducessi l'audio dell'action cam in modo che non desse fastidio, perché il motore è ovviamente preponderante, lascio che l'action cam registri l'audio così com'era. Allora passiamo a come registro l'audio dell'intercom. Qua abbiamo tutto il mio reparto audio, a parte la quick checklist che utilizzo per montare sullo yoke, questo è quello che io utilizzo per l'audio. Innanzitutto le cuffie aeronautiche, vabbè queste sono le Bose 20 o A20 che dir si voglia, con bluetooth, adesso lo andiamo a smontare. Per chi non lo sapesse, le cuffie aeronautiche hanno due connettori maschi, che si connettono ai relativi connettori femmina dell'aereo, uno per il microfono e l'altro ovviamente per la ricezione dell'audio. Queste hanno l'ANR, quindi l'Active Noise Reduction, quindi la riduzione attiva del rumore, quindi questo è per la gestione della riduzione attiva del rumore, per la gestione del bluetooth e dei volumi. Questi due cavi che andrebbero connessi all'aereo, in realtà in mezzo io ci metto questo. Ora togliamo questo bellissimo elastico che poco c'entra. Questo qui è un cavo, è un cavo della Pilot, Pilot Europe, si chiama PA80i e come vedete ha un ingresso che è dove si connette il connettore che dovrebbe andare all'aereo e abbiamo poi due connettori. Uno è il connettore che va sempre all'aereo, l'altro è un connettore, un jack da 3,5 che io faccio entrare in questo digital recorder. Questo qui è un Sony, è un ICD-PX470, è un digital recorder che accetta sia ingressi amplificati che non amplificati. Io semplicemente faccio entrare nella parte microfono questa estremità del cavo, questo jack e registro l'audio con questo. In questo modo io qua dentro ho esclusivamente l'audio puro come si sente nell'intercom quindi non ho più il rumore dei motori, i rumori esterni eccetera perché è proprio quello che si sente nell'intercom e tra l'altro viene filtrato anche dai microfoni delle cuffie. Questo è come registro l'audio. Io poi metto, siccome mi è capitato durante il PPL, avrete visto se vedete i video che ci sono alcuni dove non c'era l'audio, uno o due volte mi è capitato che questo connettore si staccasse o si estresse leggermente, quindi non ha registrato l'audio. Quindi io faccio le soluzioni quelle, come dire, fai da te, ci metto un elastico così in modo tale da mantenere il jack in posizione e poi spesso questo, sempre con un altro elastico, lo fermo a questo pezzo delle cuffie questo lo attacco poi nella parte inferiore, nella tasca inferiore dell'aereo dove si posano anche le checklist eccetera e quindi sta fuori, diciamo, dalla mia zona non mi dà disturbo, non mi pesa perché ovviamente questo è appeso alla tasca e quindi, diciamo, è una soluzione che ho trovato sempre molto comoda altrimenti si possono tenere staccate le due, questa metterlo semplicemente nella tasca dell'aereo. Questo registratore ha già una memoria interna ed è possibile mettere anche un SD card io se ricordo bene non ho messo SD card perché comunque la memoria interna sono, mi pare, 4 GB e fate conto che a dire tanto non ho mai avuto file più grossi di 150 MB se ricordo bene. E' inoltre anche molto comodo perché qui sul retro ha questo slide che fa uscire una USB e quindi io posso semplicemente infilare questo in una USB del computer o addirittura io ho una prolunga USB in modo che tengo sempre l'USB attaccata al computer e poi la tappo qua e posso scaricare veramente in pochissimo tempo i miei file. Questa è la soluzione che io adotto per registrare la parte audio. Avevo detto che vi avrei fatto vedere anche un altro supporto che utilizzo e avevo detto che vi avrei fatto anche un piccolo spoiler, lo faccio in un colpo solo riprendo la mia parte audio, chiedo scusa la mia parte video e tiriamo fuori il nuovo gioiellino che ho comperato proprio pochissimo tempo fa una GoPro Hero 9, quindi l'ultima uscita di casa GoPro con una lente speciale, una mod, questa qui è una modifica alla lente standard di GoPro è una lente grandangolare che permette però molte altre cose questa cam ha una funzione ed è per quello che l'ho presa che a me interessava tantissimo che è quella del mantenimento dell'orizzonte quindi mantiene l'orizzonte sempre livellato e fa vedere proprio diciamo in ambito aeronautico dovrebbe far vedere proprio il bank dell'aereo con la lente normale però è limitato a un solo FOV quindi un field of view particolare ed inoltre è limitato ai 30-45 gradi e non era proprio perfetto con la lente invece c'è la possibilità di avere un grandangolo perché altrimenti la funzione di stabilizzazione più la funzione di HL quindi Horizon Level avrebbe croppato molto l'immagine con il grandangolare il crop diventa meno evidente in più questa lente permette di avere la stabilizzazione dell'orizzonte su tutti i 360 gradi quindi banalmente anche in una virata a 45 gradi io vedrò l'orizzonte sempre livellato senza questa modifica probabilmente la stabilizzazione più l'HL, la funzione di Horizon Level non sarebbe riuscita a mantenere l'orizzonte livellato questo qui era lo spoiler cosa vorrei farci con questa qui? beh vorrei fare usare questa per le riprese esterne e utilizzare invece la Garmin per le riprese interne in questo modo abbiamo la doppia angolazione se riesco perché è una cosa che è ancora tutta da venire l'ho appena studiata e quindi avere la doppia angolazione adesso vedrò poi come montare al meglio il video come poter fare per la telemetria perché purtroppo iro 9 non ha una telemetria come la Garmin perché purtroppo iro 9 non ha software come la Garmin devo dire che su questo GoPro è un po' indietro nonostante la ripresa video, la resa video secondo me è nettamente migliore anche per questo ho un cavettino e un power bank che ho acquistato per l'occasione un piccolo power bank mi deve ancora arrivare un cavo retrattile quindi al momento ho messo questo qui ma a breve mi dovrebbe arrivare quello retrattile e questo è il supporto che vi dicevo che ho utilizzato anche con la Garmin per fare soprattutto i primi video quindi quelle riprese esclusivamente esterne e anche l'ultimo video sul Lago Maggiore questo viene agganciato, attaccato a ventosa al vetro dell'aereo la telecamera che punta fuori ovviamente è regolabile in maniera veramente stupenda questo qui è a mio avviso stupendo è della Ram Mount una azienda americana costano veramente tanto gli accessori ma sono anche di un'ottima qualità una ventosa che non mi ha mai dato mezzo problema non è mai neanche mezza volta caduta non si è mai staccata a una presa molto 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 forte ricordatevi però che le ventose sono una buona soluzione quando state a quote basse perché poi la differenza di pressione fa in modo che le ventose non siano più così adeguate ma sicuramente per le quote che utilizzo io al momento nelle quali volo io non c'è alcun problema e questo appunto è un accessorio della Ram Mount con una doppia sfera questa doppia sfera permette la flessibilità in tutte le direzioni ovviamente poi una volta che si è presa l'angolazione giusta ed è montata correttamente si chiude qua e la telecamera rimane molto fissa devo dire che sono dei supporti che io trovo magnifici tanto è vero che per un ulteriore upgrade che però questa volta non vi dico non so neanche se lo vedrete nel canale ho appena acquistato altri supporti Ram Mount per tutt'altra cosa bene questo per me è tutto non ho molto altro da dirvi nel senso che questa è la mia attrezzatura audio video che utilizzo quando vado in volo spero di aver fatto cosa gradita a farvi questo video anche ad aver rifatto questo spoiler che spero possiate vedere presto in un video perché vuol dire che ritorno a volare perché devo ammettere che mi manca ciao a tutti e grazie ciao a tutti Grazie a tutti